Ciao a tutti, in via Valleolona al campo del Busto 81 per la prima edizione del torneo organizzato dalla Casa di Chiara. La parola a una persona che conosciamo sicuramente benissimo tutti noi bustocchi e tifosi della Propatria, che è il nostro grande capitano Paolo Tramezzani, e Marco e Luca Ciriliano, che sono i presidenti dell'associazione La Casa di Chiara. Marco? Innanzitutto siamo contenti di essere qui oggi a questa prima edizione, e speriamo che nel futuro possa essere replicato questo evento. Siamo felicissimi che Paolo abbia deciso di voler venire a farci un saluto, perché sappiamo quanto lui ci tiene alla città, ha aspetti benefici e quindi sono emozionato. Quindi lascio la parola a lui. Ciao a tutti, per me è sempre un grande piacere tornare a Busto, soprattutto perché alle occasioni, lavorando all'estero, sono sempre di meno. Oggi l'occasione non valeva la pena. La Casa di Chiara è una Ollus che si adopera sempre per i bambini più bisognosi. Oggi è la prima edizione di questa manifestazione, e l'augurio che si possa ripetere negli anni, dare un contributo e dare una mano ai bambini e alle famiglie che ne hanno più bisogno. La Casa di Chiara è una Ollus che si può ripetere nei bambini e alle famiglie che ne hanno più bisogno. La Casa di Chiara è una Ollus che si può ripetere nei bambini,